benvenuti all'angolo di pagine d'autore una rubrica per entrare nel mondo dei libri la porta della neve di toni augello aveva preso a leggere di tarocchi più che un modo per passare il tempo era un espediente per farlo parlare da quando aveva lasciato la sua città per seguirla dino era diventato cupo e taciturno un velo di malinconia lo avvolgeva facendolo diventare ancora più desiderabile ai suoi occhi ma lei non avrebbe mai barattato i propri desideri con la sua felicità in fondo ciò che desiderava di più al mondo era renderlo felice perché della sua felicità era felice lei stessa la porta della neve disponibile su amazon è il nuovo romanzo di toni augello toni augello è un formatore consulente di digital storytelling insegna digital marketing presso la dot academy di milano e gli its della regione puglia scrive per il periodico amazing puglia e per il blog di puglia expo appassionato di cultura storia innovazione sociale dal 2010 è il direttore artistico dei laboratori urbani arte facendo di san giovanni rotondo e dal 2022 è redattore e conduttore dell'emittente nazionale padre pio tv con la porta della neve toni augello chiude una trilogia molto importante la trilogia del ghiaccio cominciata già nel 2011 con il mercante del freddo e poi nel 2021 con la neve cade ancora siamo negli anni immediatamente successivi all'unità d'italia e leggiamo ancora una volta e con piacere le avventure le vicende del protagonista nanni stipaneve di professione che durante l'inverno scava delle profonde buche nel terreno per conservare la neve e per poi rivenderla durante l'estate nel romanzo storico ma anche di avventura non mancano i riferimenti precisi all'antico mestiere del nevaiolo così prezioso in quell'epoca in cui mancava la corrente elettrica e attraversa il romanzo anche il fenomeno del brigantaggio e quindi si fa riferimento anche a fatti realmente accaduti una storia complessa che toni augello riesce a rendere piacevole attraverso la sua scrittura leggera diretta e anche molto ironica e che restituisce a tutto tondo la bellezza del gargano un gargano spesso dimenticato per le sue bellezze naturali ma l'autore sa soffermarsi nella descrizione minuziosa del dei luoghi anche quindi delle antiche neviere e ci invita a fare memoria storica attraverso i luoghi attraverso i personaggi molto bella anche la descrizione delle figure femminili che emergono con tutta la loro fierezza e dignità in un periodo in cui spesso la donna non veniva considerata o forse non era molto amata e quindi ancora una volta toni augello sottolinea l'importanza del contesto sociale economico e politico attraverso la voce di nanni che rappresenta la coralità di un popolo di lavoratori e di gente semplice che sta vivendo un periodo storico particolare che poi porterà alla luce il fenomeno del brigantaggio post unitario e allora leggiamo la porta della neve di toni augello ma vi invito anche a conoscere il gargano le sue bellezze perché questo libro non è altro anche che un pretesto per valorizzare le bellezze del territorio e magari a conoscere anche dal vivo le antiche neviere ovviamente la guida è assicurata e chi meglio di toni augello può potrà accompagnarci in questo meraviglioso percorso buona lettura e se volete seguitemi sul blog www.paginedautore.it o scrivete alla mia mail o ancora mi trovate sui canali social facebook e instagram buona lettura www.paginedautore.it 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 www.paginedautore.it